Hey la bella gente video, ben ritrovati. In un'altra parte, non me lo spledi, ma io ho il X2. Non volevo registrare questa parte. Ma che cazzo? Ma sono costretto. Perché? Perché non volevo registrarla più di altro? Perché non riesco a sconfiggere Sergent, quindi potrebbe essere un bordello il classico megataglio fino a quando non riesco a sconfiggerlo. Se riesco a sconfiggere, perché questa volta proprio è brutta, la vedo dura. Allora, innanzitutto disattiviamo di quella cosa. E poi proviamo con questo. Ok, ok. Ma por me va. Allora, se riesco a coltivare. Ok. Peschio di merda. Oh merda. Ma por me va. No. Ahhhh Grazie a tutti. 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 E' un po' Porca Eva. Come Cristo dovrei fare io. Guarda. Come? Ma... Grazie a tutti. E' un po' 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 nato quel tizio. E' un po' come... Puttana fino a... E' un po' E' un po' Ok, ok. E' un po'... E' un po' 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 e... E' un po' E' un po' E' un po'